E' una delle prime progetti che c'è venuto in mente come associazione Valentina Brambi Musica in Movimento. E' stata quella dell'assegnazione di una borsa di studio e ricerca annuale su un progetto didattico presentato da candidati, elaborato da candidati da presentare e da concludere da fare poi nell'anno successivo in una scuola, in particolare una scuola elementare, ma potrebbe essere anche in futuro che il discorso venga allargato. La direzione didattica statale, che si chiama Il Bogliasco, cioè la scuola elementare, la scuola di infanzia. Il Bogliasco che, come vi ho già detto, è legata a doppio filo con Valentina, insomma, per i suoi trascorsi appunto didattici. E' la scuola coinvolta quest'anno, è la borsa di studio, quest'anno è stata assegnata a un studente del Consorzato Paganini, che è Edoardo Valle, che voglio chiamare il regno, a cui simbolicamente consegno, simbolicamente, anche non solo simbolicamente, consegno questa busta dell'associazione Valentina Abrami, sperando che appunto intanto l'iniziativa venga rinnovata annualmente, per rinnovarla annualmente l'associazione dei fondi. Per questo vi invito a aiutare un'associazione giovane come la nostra, con finalità anche alte se vogliamo, però insomma tutti speriamo che vadano a buon fine anche in futuro, finalità didattica e finalità artistica. Nella brochure informativa potete sapere di meno tutto, oppure sul sito della nostra associazione, sui progetti che intendiamo proporre. Mi auguro naturalmente che questo evento venga ripetuto annualmente, perché mi sembra un'ottima occasione intanto per ritrovarci e ricordare una persona di grande spessore come Valentina, attraverso l'arte, e questa è la mia idea, cioè non attraverso una pure celebrazione, Valentina quanto era bella e brava, ma attraverso un fare, un proporre cose, un rilanciare verso il futuro, questa è la nostra idea, il nostro intendimento. E questo è che i bambini devranno essere sempre presenti alle nostre manifestazioni, insomma i bambini sanno sempre presenti nella mia idea di proposta, diciamo così, in questa ottica che consegno questa borsa di studi di ricerca Valentina Abrami 2009 a Edoardo Valle.